Buongiorno ragazzi, oggi continuiamo con il percorso di storia e ci occupiamo del regno di Filippo II. Filippo II, chiaramente sovrano di Spagna, era il figlio di Carlo V e chiaramente Carlo V, da Carlo V, eredita buona parte del grande impero di Carlo V, che come vedete nella sovrano che abbiamo già studiato, come vedete nella mappa, riguarda ovviamente il regno di Castiglia, quindi la Spagna, attuale Spagna, i Paesi Bassi che appartenevano ovviamente alla Spagna e poi alcune parti del territorio italiano, nella fattispecie il Ducato di Milano che ha sempre conteso alla Francia di Francesco I e poi ovviamente tutto il meridione italiano, il regno di Napoli, il regno di Sicilia. Filippo II aveva una personalità diversa rispetto al padre, sia in termini di carattere sia in termini politici. Era fortemente cattolico, questo in realtà c'è una grande differenza rispetto al padre, in quanto il padre era aperto alla tolleranza religiosa, pensiamo ovviamente al caso del protestantesimo in Germania, mentre Filippo II possiamo definirlo un integralista cattolico, quindi difendeva assolutamente il cattolicesimo. Da un punto di vista caratteriale era un sovrano molto chiuso, molto propenso all'isolamento, infatti rispetto al padre che aveva viaggiato molto in tutti i territori del regno, Filippo II restava prevalentemente nel palazzo di Madrid ed è lì che fece trasferire la sua corte. La città chiaramente di Madrid all'epoca non era il grosso centro che possiamo immaginarci, semplicemente aveva una centralità geografica, quindi era molto più difficile da espugnare in quanto era distante dalle coste. Perché doveva essere distante dalle coste? Perché chiaramente siamo in un'epoca di grande timore da parte dell'avanzata dei paesi e dei popoli musulmani. Filippo II rappresentava anche un sostegno al papato, in quanto nonostante fosse sottomesso all'autorità papale, godeva di un certo peso religioso. Si trattava di colui che difendeva il cristianesimo in Europa in un'epoca in cui il cristianesimo era fortemente minacciato dalle guerre di religione che abbiamo studiato in un altro contesto. Quindi la diffusione del protestantesimo, del calvinismo, le lotte tra protestanti e cattolici e così via. Sottolineiamo ovviamente anche che la Spagna all'epoca era già dotata di numerose colonie, in quanto siamo in un'epoca successiva alle grandi esplorazioni geografiche. Di conseguenza la Spagna esporta il suo governo e la sua struttura burocratica anche nelle Americhe. Quando intendiamo chiaramente le Americhe, intendiamo tutti quei territori che erano stati scoperti dalla monarchia spagnola. Pensate a Cristoforo Colombo, ma non è l'unico, no? Pensate anche a tutti i navigatori che sono partiti e sono stati finanziati dalla corona spagnola. In Sud America, quindi, in centro Sud America, fu esportato anche il modello del Tribunale dell'Inquisizione. Il Tribunale dell'Inquisizione, vi ricordo, essere quel tribunale che puniva tutti gli atteggiamenti considerati ostili alla religione cattolica e quindi riuscì a creare una struttura ecclesiastica anche nel centro e nel Sud America. Ovviamente dalla metà del Cinquecento, grazie alla presenza della Chiesa nel centro Sud America e alla presenza dei coloni, cominciò ad affluire un enorme quantitativo di oro, di argento, ma anche di spezie e di materie prime alimentari dal Sud America, su cui ovviamente nessun altro Stato all'epoca poteva contare. Tutte queste ricchezze economiche però non vennero usate interamente per lo sviluppo del Paese, in quanto furono soprattutto utilizzate per lo sfarzo della vita di corte, quindi la maggior parte di queste grandi risorse furono sprecate. Soprattutto Filippo II non investì nel settore commerciale, in quanto il commercio veniva visto come chiaramente qualcosa di estremamente rischioso e soprattutto inutile, in quanto la Spagna poteva contare sulla prelazione, sull'importanza di questo rapporto che aveva con il centro America. Ovviamente la Spagna da un punto di vista militare era una superpotenza, in quanto era estremamente ricca e poteva contare su una flotta, chiamata poi invincibile armada, dotata di chiaramente una fama di infallibilità. La Spagna comincia, quindi nonostante queste grandi ricchezze, il periodo di Filippo II fu comunque contraddistinto anche da numerosi problemi economici. I problemi principali del governo erano soprattutto la questione della pirateria, il Mediterraneo, e la questione dell'avanzata ottomana, quindi la lotta contro i turchi. In quanto nel Mediterraneo, era quello il fronte privilegiato, si combatteva una guerra che ormai era quasi definita eterna, in quanto era già presente da più di 200 anni, tra l'impero ottomano, quindi i turchi, che avevano come impero e capitale Costantinopoli e il regno di Spagna. Erano entrambe delle grandi potenze e i turchi nel Mediterraneo, diciamo che erano andati incontro ad alcune vittorie. Tenevano sotto assedio l'isola di Malta, avevano sconfitto la Spagna a Ceuta, che vedete lì nella mappa, accanto a Tangeri. Quindi i turchi soprattutto si dedicavano alla pirateria, quindi saccheggiavano tutte le navi che incontravano le loro rotte commerciali, quindi lo stretto di Gibraltar e avevano delle basi ovviamente su tutto il territorio africano dell'Africa meridionale. Oltre ovviamente alla pirateria musulmana esisteva una pirateria cristiana che era comunque minoritaria. Si trovavano pirati cristiani soprattutto a Malta e la pirateria cristiana attaccava soprattutto le navi musulmane. Parliamo della battaglia di Leppanto, che è uno degli episodi più importanti che deve affrontare Filippo. La tensione tra la Spagna e il sultanato turco dell'impero ottomano raggiunse l'apice quando i turchi occuparono la zona di Cipro, che era una zona considerata importante. Questa cosa ovviamente fu una scossa politica per l'intero mondo cattolico, che si unì in una lega santa contro i turchi. Quindi esisteva già all'epoca questa alleanza del cristianesimo contro il mondo islamico. Questa alleanza fu guidata ovviamente da Filippo II e dalla flotta spagnola e il 7 ottobre del 571 la lega santa sconfisse i turchi nella battaglia di Leppanto. Quindi la battaglia di Leppanto è una delle battaglie più famose di quel secolo, in quanto la lega santa, quindi chiamiamolo l'esercito cristiano, riuscì a sconfiggere l'esercito ottomano e fece addirittura più di 10.000 prigionieri. L'elemento decisivo per la vittoria fu la grande abilità della flotta spagnola e soprattutto l'abilità nell'utilizzo delle armi da fuoco, quelle leggere, che erano già state sperimentate soprattutto in centro Sud America. Per quanto riguarda invece Filippo II come gestore della questione religiosa, dobbiamo ovviamente sottolineare che, vedete, i Paesi Bassi facevano parte dell'impero di Filippo. Filippo utilizzò il pugno duro nei confronti di quella regione, a differenza di quello che aveva fatto invece il padre Carlo V in passato, in quanto si mosse subito per sedare sin dal principio quelli che erano le rivolte calviniste protestanti in quella regione. Quindi con il suo esercito ovviamente punì tutti coloro che si erano ribellati al Cattolicesimo e quindi cercò di sedare definitivamente le rivolte. Non fu così semplice, in quanto uno dei nobili che si trovava appunto nei Paesi Bassi, il famoso Guglielmo, detto Guglielmo d'Orange, diventò in breve tempo un capo della rivolta all'interno dei Paesi Bassi. Di conseguenza divenne molto difficile per la Spagna, lo vedete da un punto di vista territoriale, raggiungere i Paesi Bassi sia via mare che via terra, in quanto ovviamente doveva passare accanto all'Inghilterra che era fortemente nemica. Quindi nel 1572 Guglielmo d'Orange venne nominato governatore delle province del nord, che comprendevano alcune province tra i quali ovviamente l'Olanda, la Zelanda. Guglielmo d'Orange riuscì a unificare queste province e le unì sotto il nome delle repubbliche delle sette province unite, indipendenti dalla Spagna. Chiaramente la guerra tra questi due stati durò per molto tempo. Il risultato fu l'indipendenza dell'Olanda, quindi la provincia più grande e più importante dei Paesi Bassi divenne, diede il nome a questo nuovo Stato. Un ulteriore problema politico per Filippo II era chiaramente il conflitto con l'Inghilterra, quindi la guerra tra Spagna e Inghilterra. La guerra era soprattutto dovuta a questioni sia religiose ma anche questioni commerciali, in quanto l'Inghilterra, la corona inglese, anglicana, quindi protestante, utilizzava spesso la pirateria per ostacolare i commerci spagnoli. Abbiamo ovviamente il nome Francis Drake, che era il pirata più importante, gli inglesi li chiamavano i corsari, che ovviamente utilizzavano la tecnica dell'aggressione alle navi spagnole per depredarle di tutto ciò che portavano indietro dal centro Sud America. Quindi chiaramente la corona inglese ne traeva grande vantaggio. La flotta spagnola, che abbiamo detto detta invincibile armata, era enorme e chiaramente cercava di recuperare questo spazio vitale, quindi attaccando la flotta inglese, perché ovviamente era fondamentale liberarsi di questo nemico. Il fatto storico però riprova che l'inincibile armata ebbe una sonora sconfitta dalla flotta inglese e questo chiaramente cominciò a segnare il declino storico della Spagna. Infatti dopo aver avuto due secoli di grandissimo splendore, di grande auge politico, noi vediamo la Spagna che con la morte di Filippo II comincia a andare verso un declino che sarà inesorabile, che lo porterà piano piano a perdere tutti i propri territori fuori dalla Spagna, abbiamo già visto il caso dei Paesi Bassi, vedremo successivamente anche poi la perdita di territori nella penisola italiana. Quindi Filippo II che nasce nel 1527 e muore nel 1598 è sicuramente l'ultimo grande sovrano della Spagna come grande potenza mondiale.